Ciao ragazzi io sono Riccardo e benvenuti in un nuovo video oggi parleremo dell'Alfa Romeo 6C 1750 questo gioiello degli anni 20 e 30 non è solo un pezzo di storia ma un simbolo di innovazione, potenza e stile italiano in questo video esploreremo la storia, le caratteristiche tecniche e le versioni prodotte e le vittorie in competizioni di una delle auto più importanti ma realizzate allacciate le cinture e preparatevi a un viaggio entusiasmante per capire l'importanza della 6C 1750 dobbiamo prima guardare al contesto storico l'Alfa Romeo 6C fu prodotta nel 1927 progettata da uno dei più grandi ingegneri del suo tempo, Vittorio Iana la serie 6C dove 6C sta per 6 cilindri era stata presentata per sostituire una precedente 4C offrendo prestazioni superiori a una maggiore affidabilità il modello 1750 fu introdotto nel 1929 come evoluzione della 6C 1500 la principale differenza era la cilindrata maggiorata a 1752 che portava a un incremento notevole nelle prestazioni senza compromettere l'agilità e la maneggevolezza questo veicolo si distingueva subito per la sua eleganza e la tecnologia avanzata per l'epoca e non passò molto tempo prima che cominciasse a dominare le competizioni di tutto il mondo la 6C 1750 era un concentrato di innovazione tecnica la versione più popolare era il motore in linea 6 cilindri con la potenza che andava da circa 46 CV nella versione Turismo fino a 92 CV nella versione Gran Sport con compresore volumetrico uno degli aspetti più interessanti di questo motore era l'attestata a due alberi a camma in testa un'innovazione per l'epoca che migliorava notevolmente le prestazioni e l'efficienza del veicolo a seconda della versione la 6C 1750 poteva essere equipaggiata con un compressore volumetrico il cosiddetto Rutz che aumentava significativamente la potenza e la coppia rendendo la vettura incredibilmente veloce e reattiva il telaio era leggero e flessibile costruito per massimizzare la managevolezza mentre le sospensioni erano balestre semi ellittiche anteriori e posteriori un setup relativamente semplice ma molto efficace per le corse dell'epoca il cambio a quattro marce era un altro elemento avanzato permettendo una guida precisa e sportiva la 6C 1750 fu prodotta in diverse versioni ognuna con caratteristiche distintive vediamo ora le principali 6C 1750 turismo questa era la versione base pensata per un utilizzo più stradale e quotidiano con 46 cavalli ed una velocità massima di circa 120 km orari era una delle auto più veloci della sua epoca e della sua categoria 6C 1750 sport qui si comincia a vedere il vero carattere sportivo della vettura la versione sport era dotata di un motore potenziato e una maggiore attenzione ai dettagli tecnici per migliorare la prestazione poteva raggiungere i 140 km orari un traguardo notevole per l'epoca poi c'era la 6C 1750 super sport con l'introduzione del compressore la super sport riusciva a raggiungere potenze più elevate toccando velocità di punta di circa 150 km orari questa versione era forfetta per chi desiderava una vettura sportiva adatta anche alla guida su strada poi si trovava ancora una versione un gradino più in alto che era la Grand Sport la versione più famosa e ricercata oggi questa era una vera e propria macchina da corsa con potenze che arrivavano fino a 102 cavalli con il compressore riusciva a superare i 170 km orari un record incredibile per gli anni 30 ognuna di queste versioni poteva essere carrozzata da grandi nomi come Zagato e Turing che aggiungevano un tocco di eleganza e unicità ad ogni esemplare non si può non parlare della CC1750 senza menzionare il suo incredibile palmareste nelle competizioni questa vettura era costruita per vincere e lo dimostrò in tutte le principali gare dell'epoca una delle vittorie più iconiche fu quella della Mille Miglia del 1930 dove una CC1750 Grand Sport guidata da Tazio Nuvolari trionfò in maniera spettacolare la leggenda narra che Nuvolari corse per gran parte della gara di notte tenendo i fari spenti per sorprendere l'avversario Achille Varzi andando infine primo al traguardo la CC1750 dominò anche il Gran Premio di Spa e il Gran Premio di Monaco consolidando la sua reputazione di vetture imbattibili il suo mix di potenza, leggerezza e maneggiavolezza la rendeva perfetta per le gare di resistenza e per i circuiti più difficili L'Alfa Romeo 6C 1750 non è solo un'auto da corsa è un'icona il suo successo nelle competizioni e la sua bellezza intrinseca l'hanno resa uno dei modelli più desiderati e mirati di sempre ancora oggi la CC1750 è uno dei pezzi più ambiti dai collezionisti di tutto il mondo con esemplari che raggiungono cifre astronomiche nelle aste ma oltre al suo valore collezionistico la CC1750 ha lasciato un'impronta inderebile nel mondo dell'ingegneria automobilistica la sua combinazione di tecnologie all'avanguardia e design italiano è diventata un modello di ispirazione per le auto sportive che seguirono definendo lo stile Alfa Romeo per decenni eccoci giunti alla fine di questo viaggio attraverso la storia e la leggenda dell'Alfa Romeo 6C 1750 questa vettura ha segnato un'epoca ha dominato le competizioni e ha incantato gli appassionati di automobili di tutto il mondo spero che abbiate apprezzato questo video su una delle auto più iconiche di sempre se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e per altri video attivate la campanellina e poi nei commenti scrivete quale prossima auto vi piacerebbe vedere nei prossimi video non dimenticatevi di guardare i video precedenti che sono molto interessanti grazie per aver guardato il video ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao